Dana dice, se mangio un mammifero è a posto, mentre se mangio te mi dicano cannibale. Dana Töder, dipende dall'ambiente in cui stai. Se tu stessi in Papua Nuova Guinea, alcune tributi mangerebbero tranquillamente. È sempre una questione di ambiente e di regole. Ci sono regole ovunque, fondamentalmente l'ambiente in cui stai ha delle convinzioni e delle regolamentazioni che devi subire in qualche modo e a cui devi sottostare. Tanto per darti un'idea, se in Italia tu accarezzi un bambino sulla testa è una cosa figa, anzi addirittura i preti gli mettono le cose in testa, gli fanno un segno della croce o no, il battezzo gli lo fanno in testa. Perché sembra sia una cosa figa interessante, se lo fate qua in Thailandia è un oltraggio. Perché la testa di un bambino non si tocca in quanto sede dell'anima. Cioè non è che gli vai a chiudere l'intuizione, l'anima, quella è la connessione con la propria cosa e tu gli metti una mano in testa e gli ontossichi subito. Quindi non toccare mai un bambino in testa in Asia, adesso non ricordo esattamente se è soltanto in Thailandia o comunque in Asia. Quindi è giusto o è sbagliato? Non è né giusto né sbagliato. È giusto da una parte e è sbagliato dall'altra. In Italia se dopo una cena, se sei stato invitato a casa di qualcuno e dopo una cena gli fai un rutto di 5 minuti, quindi vieni visto malissimo perché sembri uno grezzone che viene da chissà quale borgata di periferia, invece se lo fai da un'altra parte del mondo, cioè se non lo fai da un'altra parte del mondo vuol dire che non hai gradito il pranzo. Se in Italia, mentre vai per strada, sputi per terra, te guardano tutti male, se lo fai qua è normale, perché lo fanno tutti. Capite? Quindi che cos'è giusto o che cos'è sbagliato? Boh, dipende dove stai, dipende dalle regole che ti hanno infilato nella testa. Questo è semplice, è semplicemente questo. È una questione di regole e di giudizio. Poi è importante, questa è una cosa che io dico sempre, quando si gira il mondo, cosa che i turisti non fanno quasi mai. Prima di andare in un'altra nazione, informatevi sulle usanze e sulle regole. Perché, insomma, è importante rispettare i luoghi dove si vanno, invece non è sempre, anzi non è quasi mai così. Il turista va, si muove, gira e pensa ad essere il re. No, sti cazzi. Cioè, non sei il re, sei semplicemente un bancomat che cammini con due gambe e che devi essere sfruttato da questi qui, che te guardano male, capiscono che sei soltanto un banco, ma te accettano il tuo modo di vedere le cose. Ma non è che vieni visto così tanto bene. Infatti, per essere visto bene devi rispettare le loro regole, devi sapere le loro regole. E vedi come le persone cambiano quando sanno che tu sai, quando sanno che tu conosci le loro regole, quando sanno che tu sei entrato all'interno del loro ambiente. E non stai cercando di portare il tuo ambiente nel loro. È fondamentale questa cosa. Quindi, soprattutto adesso che magari molti devono andare in vacanza, se andate in vacanza all'estero, soprattutto in posti lontani, come può essere, non so, il Sud America o appunto l'Asia, informatevi sulle usanze, informatevi sulle regole, informatevi su usi e costumi. Perché potreste fare delle gaff pazzesche. Cioè, potreste magari usare anche dei gesti. Ci sono dei gesti che non sono internazionali, per cui un gesto che per voi vuol dire una cosa, da un'altra parte può voler dire un'altra e potrebbe essere un'offesa. Attenzione, magari trovate quello che è, e gira Vemena pure. Attenzione, magari trovate quello che è, e gira Vemena pure. Grazie.